Grazie a tutti. 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 Questo ti porta una convinzione mentale e una forza mentale che quando si automatizzano come in parte successe durante la partita ti dà una convinzione e ti dà dei vantaggi che altrimenti non avresti. Il secondo tempo non avresti la seconda tempo, ma sono convinto perché la partita la vedo ogni attimo sicuramente il secondo tempo abbiamo giocato molto meno da dietro e abbiamo preso meno più gol. Perché mancato il coraggio in quel momento perché eravamo in difficoltà. Oanda zorlandığımız bir ande ve cesarete eksikliği yaşandı orda. Rispetto alla seconda domanda credo che non sia una novità a creare problemi in generale esterno al nostro mondo. Io sono abituato da 30 anni da tutte le parti così. Se non avessi la forza e la lucidità e l'equilibrio per gestire sempre quello che succede fuori da questo ambiente intendo dall'esterno non potrei fare questo lavoro. Non è arrivato a certi livelli e vale così anche per il quattro. Quindi bu sadece benim için değil futbolcularımız için de geçerli. E 2. soruya gelmek gerekirse baktığınızda 30 yıldır ben bu işin içindeyim ve 30 yılda her seferinde bu tarz problemlerin yaratıldığını görüyorum. Bunlar çok normal şeyler o yüzden burada zihinsel gücüm, zihinsel dengem olmasaydı bu işi yapmamam gerekiyordu ve bu seviyelere ulaşmamam gerekiyordu. Çünkü benim bazı seviyelere ulaştığımı da kendim de biliyorum. Ama bunu neden kendi zihinsel gücümle ve zihinsel dengemle yaptım. Yani bu futbolcular için de geçerli. La vita è così. Tutto una lott. Per averci dovrebbero avere forza mentale, superare difficoltà, le delusione, le ingiustizie. Nel percorso vale nella vita, vale nello sport. Quindi vale per tutti sempre. E la differenza tra poi le persone è stata tutta lì. E la seconda domanda non ti rispondo perché credo che sia una provocazione. E la seconda domanda non ti rispondo perché credo che se sbagliare la domanda non ti rispondo perché credo che sia una provocazione inutile non ti rispondo. Grazie.